Ciao a tutti e benvenuti! Oggi prepareremo insieme le mele stregate di Biancaneme, un dolce perfetto per Halloween, i bambini lo ameranno! Sì? Sì, perché sono buone! Sono buone! Ciao a tutti e benvenuti, oggi preparo il caramellizzato Apples Bewitched, il perfetto dolce per Halloween. Ingredienti Mezzo chilo di zucchero ½ kg di zucchero 100 ml di acqua 100 ml di acqua Mezzo cucchiaino di cannella ½ teaspoon di cinnamon powder ½ cucchiaino di zenzero in polvere ½ teaspoon di ginger powder ½ cucchiaino di miele ½ teaspoon di honey ½ teaspoon di honey ½ apples ½ mele Ho scelto questo tipo di mele Le ho lavate benissimo e le ho asciugate I miei miei Il prossimo passo è questo, abbiamo bisogno di ridurre questa parte dell'erpo. Abbiamo anche bisogno degli stecchini, abbiamo bisogno anche questo. Non lo so in inglese, posso aiutarti? Il legno? Ok, infilziamo le mele. Poi mettiamo tutto insieme, non tutto insieme, lo zucchero, let's put the sugar in the pot, l'acqua, l'acqua e il miele. Dopo questo? Dopo, amore, dopo quello. Sì, lo faccio dopo questo. Va bene. She wants to help me. Not now, later, not now. Una more. Ok, on the fire, sul fuoco, dobbiamo raggiungere i 125-150 gradi. We have to boil the sugar with the water, and till the temperature, the temperature must be 125 degrees till 150 degrees. Sta bollendo, aggiungo le spezie. So, it's boiling, let's add the spice. Siamo sui 125 gradi. So, for now it's about 125 degrees. Aggiungiamo il colore un po' alla volta, vediamo un po'. Wow! Ok, ho raggiunto 143-143 gradi. Spengo il fuoco e inizio a immergere le mele. So, we have about around 140 degrees. Ok, I switch off the flame and let's start with the first apple. Wow! Beautiful! Oh, questa è davvero... Bellissima! Ok. 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 Allora, movimento veloce. very fast. Let's dry the apple. Facciamo scolare bene. Sto usando una griglia per fare scolare bene le mele. Ehi, a me mi piace, mi piace perché sono rosse come il fuoco. Per il fuoco. Ok. Ehi, che ho già fatto. Ok, ecco, 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 ecco. la strega aspetto che si induriscono bene si avvicina a halloween e le mele stregate non possono mancare allora se vi è piaciuta la ricetta cliccate un bel mi piace ci vediamo al prossimo video e un bacio ciao bye if you like the recipe you know remember to press a like it and remember to subscribe ciao saluta bye say bye ciao